Il suonatore di piffero. Qui la posizione delle mani è su la, si, do, re, mi. Per la sinistra e anche per la destra. La, si, do, re, mi. Ci sono scritti tre diesis, ma a noi interessa soprattutto il do, perché gli altri due, che sono il fa e il sol, non vengono usati. Quindi il dito numero tre, sia della destra che della sinistra, è pronto sul tasto nero del do, perché quando dovrà suonarlo, dovrà suonarlo sul tasto nero. La mano sinistra poi suona soltanto la e mi insieme. Quindi possiamo anche fare a meno di tenere il dito sul tasto nero. Quello che ci serve è della destra. Grazie a tutti.